pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati eccoci alla solennità del battesimo del signore che segna l'avvio del tempo ordinario è un testo densissimo quest'anno meditiamo il brano del vangelo secondo marco che in un certo senso racchiude un po tutto il vangelo l'umanità di gesù ci rivela chi è dio ci mostra la sua solidarietà il suo amore per noi ci mostra il senso della sua missione egli è venuto a dare la sua vita nella morte risorgere per spalancare i cieli ripristinare la connessione tra l'umanità e dio viene per renderci capaci di dio e di vivere in comunione con lui di ricevere il suo spirito in noi e ci manifesta il mistero profondo di dio che padre figlio e spirito santo comunione d'amore nella quale siamo chiamati ad entrare per mezzo del battesimo è un testo vi ripeto densissimo in semplicità con voi vorrei condividere due grandi spunti alla luce del movimento di gesù che scende e sale ecco cerchiamo di cogliere alcuni aspetti utili alla nostra vita gesù inizia la sua missione pubblica quindi dio si mette in moto dopo una vita vissuta nel nascondimento dopo 30 anni passati a nazareth chissà noi cosa ci aspetteremmo e invece dove trovi gesù in fila insieme a quelli che andavano dal battista per farsi battezzare ecco il battesimo del battista era un rito che manifestava la volontà di cambiare vita cioè le riconoscersi bisognosi di perdono e il desiderio di ricominciare non era il nostro battesimo che infonde lo spirito santo nell'anima ma era un rito significativo e gesù è lì cioè sin dall'inizio si mostra solidale con l'umanità dalla nostra parte ci mostra il volto di dio che fondamentalmente misericordia questo è molto bello vedete ci rivela che dio non ha paura delle nostre fragilità non si allontana se non siamo perfetti neanche i nostri peccati gli impediscono di amarci semmai in quel caso siamo noi che impediamo al suo amore di raggiungerci e gli voltiamo le spalle questo è importantissimo la vita cristiana nasce dal sentirsi e dallo scoprirsi profondamente amati da lui dall'incontro con lui che in una parola ti dice ti amo sono per te sono venuto per te sono sempre con te l'emmanuele il dio con noi questo è preziosissimo perché scoprire e sentire nella nostra vita che le nostre fragilità non ci allontanano da dio ma ci attirano ancora più la sua tenerezza e ciò che aiuta il nostro cuore a cambiare santa teresina con la sua piccola via una spiritualità meravigliosa faceva proprio notare questo le nostre fragilità cioè quegli ambiti della vita dove siamo più deboli più inclini a cadere più fragili non sono un ostacolo per dio dio anzi ci ama ancora di più vuol sostenerci ancora di più come un bambino che vacilla e attira ancora più l'attenzione dei suoi genitori da una parte dunque c'è il sentirsi sempre comunque amati dall'altra chiaramente c'è la lotta contro il peccato cioè non cadere nel male nella tentazione nei momenti puntuali della nostra vita quindi gesù si manifesta solidale con noi si manifesta nostro compagno di strada si manifesta profondamente innamorato di ciascuno di noi questo è il volto di dio e il suo amore è totale fedele costante per te non è a condizione non è a tempo non ti ama se sei bravo se sei buono se riesci ma ti ama appunto e tramite la parola ci dice tu sei prezioso e miei occhi è degno di stima in ognuno di noi c'è una bellezza profonda che dio guarda sempre anche nella persona più peccatrice anche nel peccatore più incallito nel profondo della sua anima c'è un seme di bellezza l'immagine di dio e dio ci guarda sempre come suoi figli allora questo è il primo punto gesù ci rivela la vicinanza di dio con noi andando avanti proprio nella discesa di gesù vediamo il signore che va al giordano è uno dei punti più bassi della terra e scende nell'acqua questo scendere riemergere simboleggiava il voler morire alla vecchia vita e rinascere a vita nuova in gesù chiaramente rappresenta tutto il senso della sua vita della sua missione dio scende scende fino al punto più basso scenderà nella morte attraversandola in tutto e per tutto per riemergere per risorgere per ripristinare come vi dicevo il collegamento tra l'umanità e dio interrottosi con il peccato originale per riparare quella frattura che impediva dio di abitare dentro il cuore delle persone ecco guardando a questa discesa del signore che manifesta l'umiltà di dio lui che l'onipotente scende e scende sino al punto più basso scende si fa così piccolo si fa ultimo per tirarci su tutti ecco l'umiltà vera farsi piccoli per rendere grandi gli altri esistenzialmente parlando cosa ci può dire questa discesa che gesù scende nella morte scende nel nostro peccato e nesce per liberarci e regalarci la vita vera mentre adamo voleva salire per essere come dio dio scende e si fa come gli uomini perché gli uomini possano essere come lui uniti a lui battezzarsi infatti vuol dire immergersi andare a fondo gesù va a fondo nella nostra realtà umana si fa solidale con noi anche dove noi non siamo più solidali con noi stessi in genere io con il mio limite non ci voglio stare mi dà fastidio non voglio guardare quelle zone della mia vita che tra virgolette mi fanno perdere autostima e lui invece solidale anche con quello mi ama fin lì scende nei miei inferi in quelle zone più buie della mia vita del mio cuore per tirarmi su mi ama sempre anche quando io non mi amo più e mi offre sempre il suo perdono anche quando io non riuscirei a perdonarmi più e lo fa per salvarmi per liberarmi dal male quel male che mi inchioda quel male che tante volte io voglio addirittura a me stesso quante volte fuggiamo dalla realtà chiudiamo gli occhi non vogliamo vedere i nostri fallimenti facciamo finta di niente e ci difendiamo e montiamo delle maschere delle parvenze di sicurezza per non fare i conti con la nostra realtà io invece scende perché io possa sentirmi amato anche lì fin lì perché possa aprirmi al perdono perché non abbia paura di riconoscermi bisognoso di lui perché sappia riconciliarmi non soltanto con dio ma anche con me stesso con la mia storia in una parola dio scende perché io mi lasci amare si lasciarsi amare tanto bello quanto difficile dio scende perché io non abbia paura di lasciarmi amare per come sono perché io finalmente possa deporre quegli inutili sensi di colpa perché non sono come gli altri vorrebbero perché non sono perfetto come il mondo mi propone perché non sono chissà quanto bello chissà quanto intelligente ciò che conta è che io sia amato per come sono e che io mi scopra sempre di nuovo perdonato questo cambia il cuore questo mi fa diventare una persona adulta questo mi rende capace di donarmi generosamente sapere che riposo sotto uno sguardo d'amore che mi dice tu sei prezioso ti amo sempre e comunque e riscommetto nuovamente su di te allora vedete questo scendere di gesù ci dice qualcosa di prezioso sì sulla sua missione sulla sua identità ma ci rivela la profonda tenerezza che dio ha per noi e ci dà anche delle coordinate preziose per la nostra vita non aver paura di lasciarci amare per come siamo scoprire che ci lasciamo intercettare da dio proprio nell'aprire il nostro cuore all'umile riconoscimento del bisogno che abbiamo di lui al fidarci affidarci a lui laddove siamo maggiormente fragili e inclini a cadere sapendoci sempre di nuovo sostenuti e ci offre anche l'esempio del come comportarci e porci nei confronti degli altri facendoci compagni di strada in quanto chiese in quanto cristiani non possiamo tenere a distanza gli altri ma dobbiamo imparare l'arte di farci vicini agli altri specie di chi più in difficoltà di chi soffre di avere il coraggio di entrare nella vita degli altri di toccare le ferite degli altri abbassando ogni giudizio e pregiudizio e imparando l'arte meravigliosa del camminare insieme non a caso i primi cristiani erano chiamati proprio quelli della via quelli che appartengono a gesù che la via quelli che camminano con lui che vivono con lui e dunque e dunque che amano come lui che sanno camminare con gli altri farsi prossimi agli altri ecco chiediamo davvero al signore che questo giorno possa rinnovare in noi la gioiosa certezza del saperci sempre e di nuovo amati da dio che non ha paura di toccare le nostre piaghe per farle sue che ci spinge con il suo amore a saper toccare a nostra volta le piaghe di chi soffre nel corpo e nello spirito proprio come ha fatto gesù si è fatto solidale con noi in tutto fuorché nel peccato che ci insegna cosa significhi essere e vivere da veri figli del padre che è nei cieli che il buon dio vi benedica tutti pace e bene